L'attività fumettistica, un po' più di racconto fuori dalla mia cameretta, è iniziata al G8 di Genova, il rapporto con l'autorità in un certo modo, la perdita di fiducia rispetto a certe cose. Io ho un flash di tante cose, ho delle immagini del treno che scoppiava di persone a prezzo politico, con persone di tutte le età che scherzavano, commentate, eccetera. Questo è stato lo stacco più grosso, le altre immagini evidentemente sono una marea di gente vestita in blu che menavano la gente. In 18 anni, 20 anni, 30 anni di oggi, era piccolo all'epoca, che ci ha capito secondo te in questi 20 anni? Non ci ha capito niente, secondo me in generale hanno capito che molte persone se la sono cercata, primo per tutti Carlo Giuliani, in qualche modo pensa che Carlo Giuliani se la sia cercata perché era una specie de matto che lanciava distintori un po' a caso e mi sembra che l'unica cosa, hanno capito che tutto sommato quelli che hanno preso le botte mentre dormivano, bontà loro, non avevano fatto nulla che meritasse quel massacro. Tutte le altre cose, secondo me, non sono passate tanto nella società italiana, diciamo.